Oggi il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge sul turismo. È stata alla fine di un percorso lungo che ha comportato tantissime audizioni dei soggetti portatori di interesse. Era una legge di cui si sentiva una grande necessità perché va a sostituire la precedente che non è stata del tutto applicata. Questa è una legge dinamica, una legge che dà una nuova impostazione e che sicuramente darà un impulso a questo settore che è uno dei settori trainanti della nostra economia regionale. Un grande risultato di questo Consiglio regionale, di questa maggioranza, ringrazio l'assessore Damario, ringrazio Mauro Febbo che lo aveva preceduto e ringrazio tutti i gruppi consigliari che hanno saputo apportare quei miglioramenti che hanno fatto sì che questo sia un testo che sarà subito e facilmente applicato per la nostra regione.